Il nostro cuore è tentato dei nostri peccati e aperti alla vicinicordia di Dio. Confesso. Il nostro cuore è tentato dei nostri peccati e aperti alla vicinanza di Dio. O Dio, che qui hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla Tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della santezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, il tuo Figlio che è Dio, che viva e regna con te in vita, con lo Spirito Santo per tutti i centri dei secoli. Grazie. 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 Grazie.